amici fanta allenatori buongiorno bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio oggi video molto importante come sempre in questo periodo ma come sempre durante tutto l'arco dell'anno per cercare di esserci molto vicini dal punto di vista fantacalcistico ho preparato questo video che può avere un'ottima valenza in questi giorni di preparazione all'asta 2022 2023 parliamo se scegliere un giocatore in attacco super top o un doppio bomber dal prezzo inferiore per avere un abbinamento diverso rispetto super top cerchiamo di capire pro e contro partendo con tre esempi di fatto di variazione di scenari variati e per capire qual è lo scenario 1 2 e 3 e capire come andare a scegliere e questa strategia di fatto una strategia che per certi versi può essere alternativa per certi essere versi può essere utilizzata da tanti fatti allenatori io sinceramente sono più per la seconda strategia quindi quella di prendere diversificare quindi con due bomber lo costo un po più basso profilo rispetto al super top un po per la diversificazione del rischio un po anche per riempire gli soldi visto che storicamente faccio un fantacalice quindi per questo motivo prediligo privilegio quello che il doppio bomber andiamo però ad analizzare i numeri io ho preso tre giocatori ad esempio ma che possono essere sostituiti con qualsiasi nome per giusto per fare degli esempi ho scelto come top di reparto super top romero lukaku ho scelto come due doppio bomber di fatto dal profilo un po più basso quest'anno parliamo di domanzapata e jacky raspadori quindi capire esattamente come possiamo muoverci ho fatto tre scenari quello nel quale appunto entrambi i giocatori di seconda fascia da parte e raspadori fanno costare come lukaku esattamente come lukaku quello dove i due giocatori vanno a costare mediamente rispetto lukaku quella dove i due giocatori vanno a costare mediamente di meno rispetto lukaku quindi l'assunto a è che entrambi giocatori costano esattamente come lukaku simulato una spesa per lukaku pari a 35 per cento mentre per zapata 20 per cento e raspadori 15 per cento di la somma di zapata più raspadori costa esattamente quanto costa bomber lukaku a questo punto perché non abbiamo chiaramente la previsione precisa di spesa e di consegnati nel prossimo anno dobbiamo andare su delle stime su delle simulazioni ho simulato per lukaku 25 gol e 5 assist per zapata ho simulato 15 gol e 3 assist e per raspadori ho simulato 10 gol e 5 assist questo per quanto riguarda la previsione di gol e di bonus per il prossimo anno sapete che il canale il veterano da tanto tempo ha adoperato adottato quello che è il costo per bonus ci andiamo a specificare per ogni singolo bonus quanto pagare un giocatore quindi in totale lukaku produce 25 gol più 5 assist in totale produce 75 punti bonus sui gol e 5 punti sui assist quindi in totale produce 80 punti bonus zapata produce 40 punti bonus e raspadori 35 punti bonus appunto moltiplicando i gol per tre e moltiplicando l'assist per uno in totale quindi lukaku porterebbe 80 punti bonus mentre la coppia zapata più raspadori apporterebbe 83 punti bonus chiaramente anche così occhio capiamo che il doppio bomber in questo caso lo scenario ha quindi l'assunto a costo di lukaku uguale costo di zapata più raspadori privilegierebbe chiaramente la coppia raspadori e zapata infatti il costo per bonus per lukaku si aggira in area 0,44 che è la divisione tra 35 cioè il totale della spesa di lukaku fratto gli 80 punti bonus noi sappiamo che con un range che va da 0,25 fino a 0,35 il costo per bonus è un costo che può essere considerato ancora un affare oltre 0,40 comincia ad essere un prezzo un po caro e così infatti per lukaku 0,44 un costo un po caro con lo scenario ha costi un po cari chiaramente anche per zapata e per raspadori perché dividendo per zapata 20 che il costo d'acquisto previsto diviso 48 che è la stima dei bonus complessivi avremo un costo per bonus pari a 0,42 per zapata con raspadori avremo 15 in totale che il costo di acquisto di raspadori diviso 35 che sono i bonus potenziali di raspadori avremo un costo per per bonus pari a 0,43 tutte le opzioni ci fanno dire che il costo per bonus in questi casi è un costo per bonus abbastanza alto però essendo un caso di scuola analizziamo più che altro quello che è l'opportunità di prendere o lukaku o la coppia zapata più raspadori ripeto sono nomi presi un po a caso ma per fare un po dei nomi per capire qual è la strategia migliore quindi nell'assunto a lukaku costa come la coppia zapata e raspadori vince la coppia raspadori e zapata nell'assunto b la spesa del super top è inferiore alla spesa del doppio bomber quindi lukaku lo paghiamo ad esempio il 30 per cento zapata e raspadori in totale lo paghiamo come prima cioè 35 per cento la stessa simulazione dei bonus perché chiaramente l'assunto b deve avere come base è inferiore a meno lo stesso assunto dell'assunto a e quindi abbiamo un costo per bonus che è differente per lukaku il costo per bonus a questo punto diventa 30 diviso 80 che sono i punti bonus ritorna ad essere inferiore allo 0 40 quindi 0 37 che è un costo per bonus molto molto accettabile mentre chiaramente i costi per bonus di zapata e raspadori non si sono modificati quindi 0 42 per zapata e 0 43 per raspadori in questo caso dunque con l'assunto b quindi la spesa di lukaku inferiore alla spesa della coppia zapata e raspadori vince l'assunto a l'assunto b e rumelo lukaku chiudiamo col terzo assunto c'è quello nel quale lukaku costa di più nella coppia del doppio bomber quindi lukaku lo paghiamo il 35 per cento come era nell'assunto a zapata il 17 per cento e raspadori il 9 per cento stessa simulazione di proiezione di bonus per i tre giocatori a questo punto il costo per bonus di lukaku ritorno ad essere 0 44 mentre i costi per bonus di zapata e di raspadori si abbassano infatti zapata facendo 17 che costo di acquisto con l'assunto c diviso 48 punti bonus a un costo per bonus di 0 35 e raspadori 9 diviso 35 quindi il nuovo costo di acquisto di raspadori diviso 35 che la proiezione dei bonus di raspadori diventa 0 26 in questo caso entrambi i costi di zapata e di raspadori sono molto invitanti e molto interessanti e quindi in questo caso con l'assunto c vince la coppia zapata e raspadori quindi in sostanza abbiamo capito che mediamente con anche diversi scenari proiettati la coppia di doppio bomber è più interessante del singolo super top di reparto questo è abbastanza evidente in ottica di rischio finanziario è un assunto che anche in finanza si prende sempre c'è quello di diversificare il rischio mette di avere un vantaggio economico competitivo chiaramente ci sono delle cose qualitative che non abbiamo detto con con i numeri solamente e chiaramente al super bomber devi affiancare comunque una seconda punta o un quarto slot di giocatore e in questo caso vai a pagare comunque così ne più e quindi è importante capire anche ricordarci anche questo aspetto e come detto in ottica di selezioni del rischio se si ferma un giocatore singolo cioè super top se al palo mentre per quanto riguarda il doppio bomber nel caso dovesse fermarsi uno dei due giocatori abbiamo comunque l'altro che ci fa un po da paracadute da recupero per quanto riguarda il nostro attacco quindi è importante avere anche questi aspetti queste percezioni io sono anni che non vado più a comprare super bomber beneficiando di giocatori che magari sono di livello un pelo più basso ma che comunque mi garantiscono buona titolarità e buona propensione al bonus quindi attenzione massima scegliamo molto bene i giocatori se scegliamo di fare super top dobbiamo essere consapevoli che adesso dalla squadra diventa un po difficoltoso da costruire è fattibile non è da escludersi soprattutto se come è successo ma l'anno scorso il super top l'ho pagato un prezzo invitante che era sotto il 30 per cento ecco oltre quelle soglie diventa un po' complicato gestire la squadra grazie di guarda tutti voi un abbraccio ragazzi buona giornata e buon fantacaccio